Sono giornate di grande caos al comune di Paternò dove è in corso l'erogazione tramite un'app dei Buoni Spesa Covid. Sia ieri sia oggi una moltitudine di gente si è presentata al Palazzo Municipale per chiedere delucidazioni e servizi sociali sui Buoni Spesa. Oggi, martedì, non era giornata di ricevimento. Si sono registrati alcuni momenti di tensione all'ingresso del municipio. Per stemperare gli animi, alla fine, gli addetti agli uffici hanno ricevuto il pubblico. Abbiamo chiesto da parte nostra un incontro alla responsabile dei servizi sociali del comune di Paternò, Giovanna Sciuto, ma la richiesta è stata rifiutata. Ci è stato detto di contattare un numero telefonico, ma le nostre telefonate non hanno ottenuto risposta. A fine mattinata la dottoressa Sciuto ci ha contattato spiegando che le richieste di chiarimento da parte dei percettori riguardavano diversi aspetti. Intanto la difficoltà a ottenere il Buono tramite l'app da scaricare sul telefonino. Alcuni aventi diritto hanno contattato la nostra redazione spiegando che nonostante la procedura sia stata eseguita, il sistema ha generato buoni spese relativi all'anno precedente. Alcuni dei percettori hanno pure lamentato una somma erogata inferiore alle aspettative sulla base dei conteggi eseguiti alla vigilia. La dirigente dei servizi sociali ha confermato l'erogazione di somme inferiori, poiché le domande presentate hanno superato le aspettative, con la conseguenza che i fondi erogati, come stabilito dall'avviso pubblico, sono stati ridotti in proporzione. A Paternò sono state presentate 1840 domande, 710 accolte, 884 rigettate, 213 in attesa di verifica, 42 annullate dal sistema. In mattinata abbiamo contattato l'assessore ai servizi sociali del comune di Paternò, Francesca Chirileison, che ci ha inoltrato una nota nella quale sottolinea quanto è previsto dalla normativa. Nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti, i parametri economici previsti potranno essere ridotti proporzionalmente.